Ho avuto l'impressione che questo sia solo l'inizio di un percorso che forse è bene che le istituzioni valutino e mettano in condizione gli amministratori di essere più tutelati dalle normative, perché in questo caso danno adito le normative attuali a una non chiarezza e anche a difficile soluzione dei problemi da parte dell'amministratore che molte volte non ha gli strumenti per risolvere tante situazioni che poi possono portare agli eccessi tipo questa cosa qui. Quali sono le criticità maggiori? Diciamo che per riuscire ad andare a mettere insieme molte teste, molti cervelli che sono all'interno di un condominio oltre a un regolamento di condominio che potrebbe essere una linea guida per quel condominio però deve essere anche avvalorato dalla legge, perché un regolamento di condominio non può comunque essere in grado di risolvere tutte le problematiche, vi faccio un esempio concreto se in un parcheggio condominiale c'è un condomino che decide di mettere l'auto come gli piace senza rispettare le regole del condominio, l'amministratore non può intervenire perché non ha gli strumenti se io chiamo magari la polizia municipale non può intervenire perché viene in uno spazio privato quindi in qualche maniera si tutela le persone che alla fine vogliono fare un po' i fatti loro senza rispettare le regole e non danno in mano all'amministratore la possibilità di risolvere il problema nei confronti delle persone corrette che si attengono alle regole Senti, negli ultimi anni le liti condominali sono aumentate notevolmente c'è stato anche il periodo del Covid, ecco da questo punto di vista in base alla tua esperienza hai notato che questo fenomeno è in crescita? Sì, dal Covid in poi probabilmente a causa del fermo, a causa della successiva problematica lavorativa probabilmente molti condomini hanno più difficoltà a sostenere anche le spese e quindi sono più incattiviti nei confronti l'uno dell'altro, non solo magari a livello condominiale nel condominio ancora di più magari certe situazioni si possono ulteriormente accentuare quindi sì, ho notato questo problema qui nelle riunioni spesso ci sono molte persone che perdono la pazienza che non ascoltano, che intendono magari prevalere sugli altri, non ti fanno parlare ecco questo è un inasprimento della situazione, questo sì, l'ho notato L'ultima cosa, cosa chiedi a chi governa? Una maggiore attenzione alla problematica del condominio perché oggi tutte le nuove costruzioni sono principalmente condominali ancora non esiste un albo degli amministratori a livello nazionale magari non ci sono sempre amministratori professionisti e non è un lavoro assolutamente né semplice né facile e né si può improvvisare quindi sia da parte nostra una tutela perché magari ci sono persone sempre più preparate e competenti per fare questo lavoro e dalla parte delle istituzioni la volontà di aiutarci attraverso delle leggi che mettono in condizione l'amministratore di poter operare sempre con più cioè supportato appunto dalle istituzioni, dalla legge